Amiche, lo sentite l'amore nell'aria? Ma parla per te, io sono single! Dai, vi resta la libera finché non trovi uno altrettanto selvaggio con cui correre! Corri, ma chi gli va? Sciabì! Non perdere la fantastica offerta Pampers per il tuo bambino! Baby Dry Apri Chiudi Mutandino nella confezione da due pacchi sono a 8,90 euro ciascuno! E ad ogni cambio proteggi la sua pelle con le delicate salghettine Progressi Sensitivi nel formato 126 salghette a 3,90 euro. La crema visogiorno Nivea Q10 a 7,90 euro aiuta a ridurre le rughe già dopo 4 settimane. Prova anche Nivea Q10 Cushion, occhi in offerta a 10,90 euro. E soda, acqua e sapone con due trattamenti viso Nivea di cui almeno un Q10 Cushion ricevi una maschera viso al miele. Allora, cosa c'è di più bello di un pomeriggio di shopping? Un pomeriggio di shopping con le amiche? Sì, ma solo se è da acqua e sapone! Acqua e sapone, oltre alla convenienza! Grazie!